Oggi siamo qui davanti alla prefettura di Roma, così come in tutte le province d'Italia, i nostri colleghi stanno manifestando davanti alle prefetture perché i prefetti sono gli occhi e le orecchie del governo e vogliamo sollecitare perché i prefetti che conoscono la realtà del loro territorio facciano comprendere al governo lo stato di disagio in cui versano le persone anziane e i pensionati. Siamo su tutte le piazze d'Italia con dei presidi con molti pensionati e pensionati, è una manifestazione unitaria e chiediamo al governo ma soprattutto alle forze politiche, tutte le forze politiche che si candidano a guidare questo paese di dare una svolta al problema del welfare, al problema delle pensioni. I pensionati non sono tutelati, la sanità rischia fortemente e abbiamo un grosso problema che riguarda i non autosufficienti e c'è bisogno di ridare un po' di prospettive, di sicurezza e di giustizia sociale al paese, cominciando a partire dai giovani e dagli anziani.